...uno spazio all'arte, in particolar modo alla scultura, perché in piazza della Signoria Firenze, in occasione della chiusura della settimana Michelangelesca, una squadra di scalpellini è al lavoro per scolpire un grande blocco di marmo di Carrare. Il loro obiettivo? Creare una copia del David, definita universalmente la statua più bella del mondo. Una sfida che ci spiegherà il maestro Tello Scatolini, scultore e presidente dell'Università dei Marmorari di Roma. Buon pomeriggio e benvenuto a noi. Buon pomeriggio e benvenuto a voi. Dunque maestro, ci sono ancora delle competenze e delle capacità, come si auspica in questo caso, per copiare un'opera simbolo del rinascimento dell'Italia? Le competenze sì, ci sono, a me sono molto, molto poche. C'è ancora la possibilità di salvare queste competenze e queste sapienze. L'importante è trasferirle alle persone giuste, soprattutto ai giovani che vogliono imparare un mestiere così difficile, ma così bello e impegnativo. Ecco, stiamo vedendo proprio delle immagini. Lei parlava dei giovani, sono dei giovani scarpellini, li stiamo vedendo proprio all'opera in queste immagini. Michelangelo stesso aveva 23 anni. Quando finì la pietà? Ma a che età si inizia normalmente a scolpire? Io dico sempre che è come imparare a suonare il violino, il pianoforte, che comincia da giovanissimi. Al di là della grande maestria che prevedeva di Michelangelo, si comincia a 11 anni, a 12 anni. Si può anche cominciare a 20 anni, ma prima si inizia, meglio è. Ma come si apprende proprio a scolpire adesso? E ora si apprende a scolpire come si apprendeva una volta, non ci sono cambi di... Io parlo sempre del lavoro manuale, come lo facevano il Bernini e Michelangelo. Si fa nella bottega artigiana, dove c'è il diretto contatto con il committente, quindi con il lavoro che deve essere realizzato bene a regola d'arte. Quindi se vogliamo è una capacità, un'arte, una tecnica anche che è rimasta la stessa poi nei secoli. Fondamentalmente sì, fondamentalmente sì. Le attrezzature, le nuove metodologie tecniche, ci sono i robot che possono diciamo aiutare molto, ma come io ripeto sempre, l'uomo mette l'anima e la macchina questo non può farlo. Ecco, stiamo vedendo proprio queste immagini. Io le chiederei proprio di aiutarci a capire come si realizza una scultura. Ci sono diverse metodologie. Michelangelo non usava le stesse del Bernini e viceversa. In questo caso c'è sempre la prima parte che è quella della bozzatura. Poi le proporzioni vengono prese in modo diverso o con la macchinetta punti, o con i compassi, o con altre misurazioni sempre sempre manuali. E poi c'è l'occhio, la bravura dell'interprete. Ecco, stiamo vedendo proprio queste immagini. Abbiamo anche altre immagini, delle immagini in cui lei stesso è a lavoro, fra pochissimo le vedremo. Abbiamo visto proprio degli scalpelli. Ci spiega come vengono usati, che tipologia proprio di strumenti esistono? Gli strumenti che io uso ora, più o meno, sono gli stessi di quelli che usa Michelangelo. La maggior parte sono fatti a mano, ora anche a macchina. Ecco, lo stiamo vedendo proprio. Esattamente, questa è la fase di sbozzatura. Questi strumenti vengono fatti, venivano fatti, ora poche persone vanno ancora a mano, quindi sono dei sarti che... Ecco, li li vediamo proprio qui. Esattamente. Sono diversi l'uno dall'altro. Producono gli scalpelli a seconda della tipologia del lavoro, quindi a bozzatura e rifinitura di una pietra, del marmo, del granito, del travertino. È un lavoro proprio di sarto, d'alta sartoria. E quindi nelle immagini, ecco, qui stiamo vedendo, la stiamo vedendo all'opera, qui cosa sta facendo? Qui ho usato il sistema della macchinetta a punti, come vedete, che è un pantografo monomale, lo stesso che usava il Bernini, dove si possono prendere fedelmente i punti dal modello in gesso e riportarli sul marmo con una precisione millimetrica. Questo fa sì che ci sia una riproduzione perfetta del modello, infatti in quel periodo nasce la ritrattistica. Ecco, abbiamo visto, ecco, poco fa vedevamo proprio i giovani al lavoro su questo moderno David, ma le chiedo adesso, giorni d'oggi, chi commissiona le opere? Principalmente i privati, come era una volta, ma soprattutto i privati. Ma c'è, se vogliamo, può darci magari dei numeri per renderci conto di quanto siano le commissioni, di quanta gente poi possa trovare, diciamo, lavoro in questa arte? Penso ora. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi c'è stata una discesa enorme riguardo appunto le commissioni di lavoro. Un po' per un fatto culturale, un po' perché le maestranze andavano morendo e non c'era una successione. Io credo che sia importante dare un segnale forte e quindi ritramandare questa memoria, queste sapienze perché possano essere riutilizzate. Il lavoro non c'è perché spesso non c'è chi lo può realizzare. E perché dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in particolare? Un fatto culturale, un fatto prettamente culturale. Quindi dice anche nell'architettura anche si è concentrata anche su altri modelli e ha fatto meno uso? L'industrializzazione, il minimalismo, sicuramente l'idea che abbiamo in Italia, che di bellezze ce ne abbiamo anche sin troppe, allora perché farne altre? La bellezza è una cosa fondamentale nella vita dell'uomo, andrebbe sempre rinnovata. Ecco, a proposito di bellezza, non possiamo non parlare se vogliamo di Roma, la grande bellezza se vogliamo. Un evento simile a quello di Firenze secondo lei potrebbe essere organizzato nella capitale? Sì, dovrebbe essere organizzato. Che possibilità ci sarebbero? Che idee le vengono in mente? Buone idee, buone idee. Abbiamo un museo a cielo aperto a Roma, anche nel Vaticano, abbiamo centinaia e centinaia di opere d'arte splendide e potremo organizzare magari per il giubileo dell'anno prossimo. Ecco, quello potrebbe essere sicuramente una buonissima, un'ottima occasione. Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo parlato di Michelangelo, quindi di una certa idea di rinascimento, certe eccellenze, se vogliamo, che appunto trovavano forse in Italia una possibilità di sbocco che altrove non c'era, oppure proprio perché c'era un terreno fertile perché questi talenti attecchissero. Ecco, adesso non solo magari parlando di arte, cosa le viene in mente e se è possibile immaginare in che modo un rinascimento per quanto riguarda poi il suo settore. I confini si sono allargati, quasi non ci sono più dal punto di vista culturale sicuramente, però l'aria italiana, la luce dell'Italia, la nostra storia è fondamentale come partenza, poi magari si può andare anche all'altra parte del mondo. Quindi abbiamo ancora comunque qualcosa da insegnare, secondo lei. Molto, molto, sì. Molto da insegnare. E per quanto riguarda il suo settore, l'Italia com'è rispetto al resto del mondo adesso? In un limbo, in un limbo che va rotto. Si può ripartire, si può ripartire sicuramente. Però ci sono insomma dei talenti e delle capacità che l'Italia ancora ha. C'è un primato ancora per quanto riguarda? Ci sono, ci sono anche persone di 40 anni che io ho visto qualche mese fa e sono talentuosi. Grazie maestro, grazie a maestro Tello Scatolini, scultore e presidente dell'Università dei Marmorari di Roma. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.